Pugno duro da parte della Polizia dell'Aquila. Ecco l'occhio elettronico, un telelaser montato sull'autostrada 24 tra San Gabriele Colledare e la barriera di Teramo. In un mese conteggiate 148 violazioni per eccesso di velocità. All'occhio elettronico non è sfuggita neanche un Audi A3 che sfrecciava a 230 chilometri orari, pensate. A seguito della direttiva emanata il 21 luglio scorso dal ministro dell'interno Minniti per contrastare il fenomeno delle vittime sulla strada per incidenti stradali e raggiungere l'obiettivo comunitario della riduzione del 50% del numero dei morti, gli agenti della sottosezione Polizia Stradale dell'Aquila Ovest, diretti dal comandante sostituto commissario Alberto Ravanetti, hanno predisposto una serie di servizi di controllo elettronico della velocità sulle carreggiate dell'autostrada 24. Il servizio è stato coordinato dalla sezione Polizia Stradale dell'Aquila con l'utilizzo del telelaser ultralight con Digicam, una tecnologia che consente di rilevare tutti i mezzi che superano il limite previsto di 130 chilometri orari in autostrada, rispettando le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e posizionandolo in modo ben visibile, segnalato secondo la vigente normativa. 14 servizi telelaser svolti nel mese di ottobre, nel corso dei quali sono state scattate 148 foto tra auto, tir e due ruote che hanno superato il limite, nove patenti ritirate immediatamente sul posto, 493 punti decurtati dalle patenti. E all'occhio elettronico, come dicevamo, non è sfuggita una di da tre che, pensata, sfecciava sull'autostrada a 230 chilometri orari. Attraverso l'intensificazione dei servizi sono stati anche effettuati controlli su alcol e droga, caschi protettivi, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini, uso di cellulari e smartphone alla guida. Sono allarmanti i dati forniti in materia di infortunistica stradale perché purtroppo non c'è stato un completo adeguamento nelle condotte di guida da parte degli utenti della strada. Pertanto questo genere di servizi proseguiranno grazie a una precisa pianificazione finalizzata alla riduzione degli incidenti mortali, anche perché la Polizia stradale aderisce alla campagna europea T-Spot Speed per contrastare appunto l'alta velocità con controlli in contemporanea che vengono effettuati in tutti i paesi.